Musica Abbiamo qui con noi il preparatore dei portieri della Selva dei Pini Antonio Petterudi che ci spiegherà che tipo di esercizi si stanno effettuando qui al ritiro di Castel di Sangro Abbiamo qui con noi il preparatore dei portieri Antonio Petterudi che ci spiegherà lo svolgimento del programma di allenamento qui a Castel di Sangro Buongiorno a tutti, per quest'anno abbiamo scelto Oh, scelto Ma per un po' di l'ho detto bene io E' un po' di l'ho detto Ma per un po' di l'ho detto Ma per un po' di l'ho detto Ma per un po' di l'ho detto